E' un cappone, gioco, e cosa tu conti? Mi chiede il quattro di l'ora di più, che ho già fatto il tuo posto di te. Ero a tutti, tu hai detto che lo c'è se vai, non è che l'Italia c'è tu. Ehi, amico, questa è l'occasione della tua vita, per tanto, perché mi parla di loro. Direi che è proprio una buona offerta. E come l'ha, non ti fanno il tuo posto? Non ho bisogno, sì. Ma di qualche fratellino come il giorno e mi fa ancora la tua volta. Con il calcio di testo fuori per il mio divino talento, Ma di qualche nessuno ha dovuto fare questo? Do a niente, perché è l'occasione della tua vita? Riccati, si, se. E' un'az better, ma di qualche? A per? Ma di qualche? E' un'azbrenore, io l'azbrenore ti? E' un'azbrenore, Luca, il passaggio, il passaggio, il passaggio è un'azbrenore. Pum, puuu. Capra è fratelli. C'è qualcuno di Wola? In un'azbrenore. Pum. Se qualcuno lo ha detto, non c'è tanto che l'amore, ma non c'è tanto che l'amore, ma non c'è tanto che l'amore, ma non c'è tanto che l'amore. Se qualcuno lo ha detto, non c'è tanto che l'amore. Come è stato? Che giornalino diventiamo noi? Nessuno lo vedeva, e nessuno lo vedeva che non lo stava presente. Qui lo fate per noi del più agli spessi come sempre. Stai dicendo l'istrata? Sì, ti lo cerco qui. L'abbè diventato morto! Non togliamo con te la stessa un segno con tutti! Non ci andiamo solo per questo che non si no, ci metteremo qui da casa? No, ciao un salone, ragazzi, voli al salone! Certo dobbiamo fare un salone New York che ci può dire ma... D'accordo, non ci andiamo più. Dobbiamo fare un salone di New York. Sono morto, ci va più in un bel metro, ma non è più in un bel metro, ma non è più in un bel metro... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.